Ciao, una buona serata da Lily tra i gomitoli, eccomi qua per il proverbio quotidiano, queste piccole saggezze che ci vengono dall'Africa, ma che assomigliano anche al nostro modo di pensare, perché il pensiero è fraterno sicuramente, condiviso dappertutto su questo pianeta, ricordiamocene sempre. Allora, è un piccolissimo proverbio, ma secondo me veramente intenso, una scheggia di diamante, ed è pertinente in effetti con il periodo che stiamo vivendo. La pazienza è un amuleto per la vita. Con questa piccola riflessione vi auguro una buona notte. A presto.